Noi abbiamo avuto attraverso la raccolta di questi questionari delle conferme importanti sulla criticità di alcuni aspetti, tra i principali i tempi di attesa e l'accesso ai prontosoccorsi. Si è trovato modo di registrare invece tra le persone che hanno risposto all'indagine un giudizio complessivamente positivo sui medici di medicina generale. Rimangono aperte questioni che ovviamente trovano conferme anche nella valutazione delle persone sul fatto che nei territori c'è un po' di disomogeneità e questo è uno dei tratti su cui lavorare di più per dare un maggior livello di uniformità ai servizi nella nostra regione. Continuiamo ad insistere con la regione perché si accompagni con più decisione al processo di qualificazione dei servizi ospedalieri, un rafforzamento dei servizi sul territorio. Ci sono state delle scelte significative e recenti sul tema della residenzialità. c'è ancora molto da lavorare perché si possa rafforzare e qualificare il sistema dell'emergenza urgenza e soprattutto dare il giusto spessore, le giuste risposte al tema della domiciliarità.